A proposito di Juve, non so se vuoi sbilanciarsi, ma c'è qualche allenatore che vuoi allenare la Juve? Non lo so, è difficile, adesso si sta aspettando questa notizia. Sicuramente si parlava di Guardiola, ma non credo che Guardiola possa arrivare alla Juventus. Si parla di Sarri, Sarri potrebbe essere comunque un allenatore importante per la Juve. Io vedrei bene anche Zidane alla Juve, però secondo me è legato al Real Madrid in questo momento.